L'Italia rimarrà sempre una zona unica. L'Italia protetta, tutti i giorni compresi i festivi. Chiudiamo però bar, pub, ristoranti. Tu apri, tu apri, tu apri. Ecco io sono con voi. Chiudiamo però tu apri, tu apri, tu apri. Ecco io sono con voi. Chiudiamo però bar, pub, ristoranti. Voi dite io apri. E perché qualcuno vi può dire chiudi? Chi vi dice chi di? Le forze del mondo. Le quali obbediscono a quello che dicono 18 coglioni, 18 coglioni. Non eletti, nominati, non eletti, nominati, non eletti, nominati. Siamo a 50.000 quella sera e mandiamoli a fare in culo come si meritano. Deve essere una insurrezione, insurrezione. Io apri, io apri, io apri. Deve essere una insurrezione, insurrezione. Vittoria, vittoria, vittoria. Mi raccomando, non preoccupatevi. Le multe le faremo mangiare. Questo è The Morning Show.